Ehi là! Se non ti dispiace, devo cagare. Witcher, ascolta. Muto! Lo sai, non faccio che pensare a tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme. Non voglio far la guerra. Oh no, lo so. Se fai la guerra, ti fotti la libertà vigilata. Così ho sentito che d'ora in avanti tu farai il bravo ragazzo per poter uscire da Osa e salvare i tuoi bambini. Sai, lo trovo veramente commovente. Però, sai cosa mi tormenta? Se non esci, che succede? Se quando stai per chiedere la vigilata resti coinvolto in una rissa, in una zuffa con il tuo vecchio compagno di acquario? Ah, che succede? Se ogni volta che tu stai per ottenere la vigilata vieni coinvolto in qualche spiacevole incidente e questo ti costringe a scontare per intero la tua pena. Così i tuoi figli diventano dei mostri. Ecco, cosa mi tormenta. Servo. Quisias se uscirò o se cuida esterò... Quisias se uscirò o se cuida esterò 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 o se cuida